Tra pochi giorni tornerà la seconda edizione del Ferrara Film Festival, dal 21 al 26 marzo tornerà il Festival del Cinema qua a Ferrara, ma adesso andiamo a scoprire cosa ne pensa la gente. Hai mai sentito parlare del Ferrara Film Festival? Sì, ne ho sentito parlare. Ho sentito parlare, sì. Sì, ho sentito parlare. Eh, l'ho sentito, però devo dire che cosa sia, non occupare l'idea. La prima edizione, se non sbaglio, l'anno scorso. Il cinema è sempre una bella occasione. Il cinema è sogno, il cinema è tutto. Senz'altro, come ogni progetto, ci sono. Immagino di sì. Sì. Soprattutto per i giorni. Assolutamente positivo. Più eventi culturali abbiamo, più... perché il cinema è cultura, più... la città non è giovane. Guardi, a me piace l'italiano. Oh, domanda impossibile. È una domanda difficilissima. Sì. Mi piace anche il cinema francese. Preferisco il cinema americano, però mi sto avvicinando anche al cinema italiano. A dirti la verità, sono un fan un po' di tutti e tre. Perché il film americano, diciamo che è quello tipico, quello... il blockbuster, ma quello per cui tu vai al cinema con gli amici, ti guardi, non so, gli Avengers, eccetera, eccetera. Mentre il cinema europeo è più una specie di ricerca. Con l'italiano mi piace molto, per esempio, la commedia. L'americano, l'esterno... Siamo abbastanza per il corso. Sì. Morico Guerritore, mi piace da questo. Qualche faccia nuova, non i classici. Uno che comunque può trarre un pubblico giovane, quindi... Vildo Greco... Paola Cortellesi. Paola Cortellesi, oppure anche personaggio di Breaking Bad, la settima che io amo. Sul web, purtroppo. Giornali, ma anche televisione, radio. Sul web. Prevalentemente sul web. No, più sul web. Comunque mi piace leggere, comprare giornali, riviste, tipo Focus. No, più sul web.